La lunga tradizione ciclistica di Bacchereto e del Giro del Montalbano prosegue con la 66esima edizione che fa seguito al campionato italiano Under-23 svoltosi lo scorso anno. Ma quella di quest'anno, quella del 2022, organizzata dalla Sianese Corte e dal gruppo sportivo Bacchereto, è un'edizione particolare. State vedendo il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti, assieme alla Polizia Municipale, assieme agli organizzatori, agli sportivi. È il momento di rendere omaggio ai due fondatori del Giro del Montalbano nel 1954, Luciano Lenzi, morto qualche settimana fa, Luigi Bellini, che se ne andò 11 anni fa. La presenza dei familiari, la presenza di organizzatori sportivi e delle autorità con il sindaco è il doveroso omaggio a coloro che fondarono questo Giro del Montalbano. Si corre la 66esima edizione, 131 gli atleti al via, 24 le formazioni e il patrocino della regione toscana, della provincia di Prato, dei comuni di Carmignano, Poggio Accaiano e dell'associazione turistica Proloco di Carmignano. L'edizione, come abbiamo detto, è dedicata a Luigi Bellini e Luciano Lenzi, tra gli sponsor Consiag, Publiacqua, Estra e Chianti Banca. Il percorso è identico a quello dello scorso anno, 154 chilometri, soprattutto identico per questa gara che resta nel calendario nazionale anche per questa edizione, con quattro passaggi dalla zona del traguardo e dalla salita di Madonna del Papa, breve ma durissima, conosciuta anche come la salita del Brucio. Da tenere presente poi, la giornata è estremamente calda, 36 gradi qui a Bacchereto, nonostante che si sia a 200 metri di altitudine, alle pendici del Monte Albano, con arrivo che è stato posizionato proprio in piazza Giuseppe Verdi, dove è avvenuto il ritrovo e da dove i corridori stanno per prendere il via per trasferirsi a Seano, dove ci sarà la partenza ufficiale della manifestazione. Edoardo Prestanti, il sindato di Carmignano, ha abbassato la bandierina del via ufficioso ai 131 atleti. Vedete le maglie giallo-blu in primo piano, sono quelle della nazionale dell'Ucraina presente, con quattro atleti, con Movoshan, con Novomorski, Smetaniuk e Sidor. Questi sono gli atleti ucraini presenti a questa competizione. Direzione di gara, Sanzio Ramponi, Cinzia Simonelli, la giuria presieduta da Chiara Compagnin, con Francesca Martinelli, Fabio Tani, Federica Occhini, che è il giudice di arrivo, Giuseppe Romano in moto. Medico che gara il dottor Antonio Stinchetti, due moto-informazioni con Adriano Dini e Piero Germelli del team Radiocorsa Toscana. Giro del Monte Albano l'anno scorso firmato da Gabriele Benedetti con la conquista della maglia tricolore e poi ricordiamo tra tanti vincitori illustri per questa competizione anche nomi come Popovic, come Francesco Casagrande e poi naturalmente altri atleti che poi hanno raggiunto il mondo dei professionisti. Quindi una gara sicuramente di largo prestigio. Con le immagini, dopo aver visto quelle iniziali, ci spostiamo al chilometro di gara 32 e 800, perché questa è la strada che porta all'ingresso in Bacchereto ed è il primo dei quattro passaggi. Siamo al 32esimo chilometro al comando, abbiamo Davarias della Overall Suckling Team numero 92 che ha 40 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Il finale è in salita, gli ultimi tre chilometri, in pratica dalla zona Le Barche fino a Piazza Giuseppe Verdi sono in salita per questo 66esimo giro del Montalbano che si avvale anche della Coppa Basport Bacchereto, della Coppa Comune di Carmignano, quindi la Coppa Casa del Popolo di Bacchereto e poi naturalmente tutti i vari sponsor che accompagnano questa 66esima edizione della gara. E questa è praticamente la zona di arrivo, questo sulla sinistra il palco che è stato quest'anno posizionato proprio al centro di Piazza Giuseppe Verdi con il battistrada numero di gara 92, vale a dire Ioannis Davarios, atleta under 23 dell'Overall Trecolle di Suckling Team che è transitato con 40 secondi nei confronti del gruppo che invece sta in questo momento lasciando Bacchereto per andare ad affrontare per la prima volta la salita di Madonna del Papa. Vediamo gli atleti in questo momento del team Futura Rosini che hanno tra le proprie file uno dei corridori più in forma del momento e tra i più attesi in questa prova, vale a dire Pierantozzi. E intanto continuiamo a seguire nelle immagini il battistrada attuale da Varias della Overall Trecolli che ormai si sta avvicinando ai due micidiali tornanti di Madonna del Papa quando poi la strada sbocca sulla provinciale che unisce in pratica Poggio Accaiano a Empoli attraverso Carmignano. Vediamo che il corridore al comando continua sempre nella sua azione ma siamo soltanto al 34esimo chilometro dei 154 previsti per questa gara. La presenza di Andrea Vezzosi, presidente del Comitato Provinciale di Prato per questa manifestazione che per tanti anni è stata allestita dall'Associazione Ciclistica Pratese della quale proprio qualche giorno fa è arrivata la notizia del non rinnovo di affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana per la stagione 2022. Davvero una notizia che non avremmo mai voluto dare. E intanto in questo momento sul micidiale strappo di Madonna del Papa vediamo il battistrada Davarias che sta per ultimare con questa curva che è il secondo tornante prima di entrare sulla via provinciale Empolese. Continua nella sua azione, la sua fuga è iniziata in pratica nel tratto pianeggiante prima di giungere a Seano, prima di giungere anche al passaggio da Bacchereto. il suo massimo vantaggio è stato di 50 secondi, ora ne ha poco meno di una quarantina seguito anche dalla moto di Piero Germelli, uno dei due addetti ai lavori mentre termina in pratica proprio dove è posizionato il cartello del Gran Premio della Montagna lo vedete in alto a sinistra, il Gran Premio della Montagna che sarà a punteggio ai vari passaggi che saranno quattro. Ora il percorso di questa gara presenta per tre volte in pratica un circuito che tocca le località di Carmignano, Comeana, stazione di Carmignano quindi le colline Signesi e Poggio a Caiano per tornare a Bacchereto. Soltanto l'ultimo giro sarà più breve in quanto i corridori non raggiungeranno la provincia di Firenze ma da Comeana raggiungeranno subito Poggio a Caiano e quindi si porteranno verso il traguardo finale di questa gara nazionale riservata ad Elite Under 23 erano 146 iscritti, 131 coloro che hanno preso il via in questa prova. Con le immagini dopo aver visto un passaggio anche del gruppo compatto nella zona di Poggetto siamo al secondo passaggio sulla salita verso Madonna del Papa tutti assieme con quattro atleti della Mastro Marco Sensi Nibali che fanno l'andatura e siamo esattamente al chilometro 68 di gara. Ecco qua infatti gli esponenti della formazione guidata dal canto e da Gabriele Valducci che stanno facendo l'andatura anche in questa formazione uno dei corridori più attesi e più in forma brillante protagonista Filippo Magli non è presente oggi invece Lorenzo Magli che proprio ieri ha concluso il Giro d'Italia dei Giovani Under 23 Giro d'Italia che è stato firmato dall'inglese Aiter con il primo degli italiani decima posizione per Piganzoli. Vediamo intanto sempre i passaggi sulla zona di Madonna del Papa dove naturalmente sono confluiti in notevole numero gli sportivi che stanno assistendo a questo 66esimo Giro del Montalbano organizzato dalla seanese corse del presidente Marco Fuochi gruppo dunque compatto al chilometro 68 di gara e lo vediamo proprio il gruppo ancora forte di 120 atleti nonostante già qualcuno abbia deciso di abbandonare. e allora dal Madonna del Papa dal 68esimo chilometro ci portiamo invece al terzo passaggio dalla zona di arrivo siamo a Bacchereto, siamo sul rettilineo di arrivo con questa situazione che vede in questo momento gli atleti che stanno facendo l'andatura sul gruppo che si è frazionato e infatti sono in sette in questo momento che hanno ancora un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo più consistente un tentativo di fuga con naturalmente questi atleti che vedete in questo momento con Riccardo Lucca, con Colombo, con Pierantozzi poi Ludovico Crescioli con Demiri Moro sono coloro che fanno parte del drappello che è condotto, lo vedete, dal numero di gara 139 da Raul Colombo della World Service Group Vitalcar Vega con Ludovico Crescioli in terza posizione con Pierantozzi in seconda posizione questi dunque sono gli atleti che continuano ad avere un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo che comunque alle spalle dopo un leggero frazionamento si va ricompattando e che si sta avvicinando anche a questi sette battistrada sempre capitanati da Raul Colombo il corredore della formazione Veneta tratto in leggera discesa il tratto vallonato che unisce Bacchereto alla strada provinciale empolese e quindi i corridori tra non molto torneranno ad affrontare per la terza e penultima volta la salita di Madonna del Papa intanto alle spalle vedete già i primi inserimenti si va infoltendo il gruppetto che si era portato al comando della gara e che vede sempre Pierantozzi a fare l'andatura con Cresciolo in seconda posizione Colombo in terza mentre alle spalle stanno arrivando ci dice servizio informazione altri corridori intanto lo possiamo vedere anche da questa immagine con il gruppo che si sta ricompattando se non totalmente almeno per tre quarti quindi intanto con l'andatura che in questo momento viene effettuata dagli atleti della Polisportiva Tripetetro Ciafardini nelle prime posizioni a fare l'andatura ora intanto con il numero di gara 99 si fa vedere molto attivo sulla testa del gruppo Riccardo Moro corridore della Par Pre Racing Team siamo nuovamente già sulla salita sul strappo di Madonna del Papa terzo passaggio con il gruppo praticamente compatto ma con gli atleti e con Moro ora anche Secca quindi anche Caribbo nelle prime posizioni vediamo proprio questa accelerazione da parte di Secca ecco qua il numero di gara 137 inquadrato in questo momento il corridore marocchino del Veloracing Palazzago tallonato dal Garibbo della Par Pre Racing Team sembrano loro andare a giocarsi questa volta il passaggio al Gran Premio della montagna che infatti lo vediamo in questo momento c'è questo sprint ma il marocchino Secca ha reagito al tentativo di rimonta di Garibbo ed è stato Imad Secca del Veloracing Palazzago che ha ottenuto il primo posto davanti a Garibbo della Par Pre Racing Team appena 9 secondi il ritardo del gruppo praticamente compatto lo vedete infatti da questa immagine abbastanza chiara evidente un gruppo forte di una settantina di corridori ad appena 9 secondi da Secca e Caribbo al terzo passaggio sulla salita di Madonna del Papa dopo 99 chilometri ora siamo in pianura siamo a Poggio a Caiano 125 sono invece i chilometri percorsi e la situazione vede al comando due atleti ritroviamo in questo momento Caribbo Caribbo numero di gara 98 della Parpry Racing Team la formazione cara Francesco Ghiaret e con lui Raul Colombo della World Service Speedy Bike che avevamo visto già protagonista in una precedente tentativa di fuga i due sono in questo momento a Poggetto sono stati percorsi 126 chilometri fino a questo momento ne mancano praticamente ancora poco meno di 30 alla conclusione perché ci sarà da tornare a transitare da Bacchereto quindi quando mancheranno 20 chilometri alla conclusione intanto vediamo quello che avviene alle spalle 30 secondi il ritardo per il gruppo rispetto a Caribbo e a Secca i due atleti che stanno comandando la gara sono in 17 in questo momento alle spalle è il gruppo che state vedendo nelle immagini nella zona di Poggetto prima di tornare a Bacchereto e con gli atleti della Mastro Marco a fare l'andatura ad iniziare dal numero 80 Butteroni ci sono ben tre gli atleti della Mastro Marco Sensinimali che fanno parte di questo gruppo alle spalle della Coppia al Comando che ha preso l'iniziativa prima di giungere a Poggio a Caiano e che ora ha un vantaggio che tocca ormai 30 secondi nei confronti di questo gruppo che è in località Casa Rossa ormai la ha svolta a sinistra questa è la zona dove l'anno scorso per ragione di spazio si concluse il campionato italiano Under 23 vinto dal Valdarnese Gabriele Benedetti proprio qui a destra era il rettilineo lo vediamo in questo momento via Levi il rettilineo di arrivo del campionato italiano Under 23 che prese il via da Bacchereto ma che per ragioni di spazio inerenti e la pandemia appunto fu spostato il traguardo a Seano nella zona proprio di Casa Rossa intanto anche di Genova altro corridore tra i più in forma che abbiamo visto di sovente nelle gare toscane in primo piano atletta della calzatulieri Montegranaro poi anche gli atleti del team Cubeca ad iniziare da Iacchi Alessandro Iacchi a fare l'andatura numero 124 che chiede il cambio si porta a fare l'andatura a Butteroni numero 80 del Mastromarco Sensinibali siamo a Seano in questo momento ma andiamo normalmente a recuperare la coppia lungo la salita che porta a Bacchereto ormai poco più di 20 km alla conclusione questa è la lunghezza dell'ultimo giro quando i corridori transiteranno dalla zona di arrivo da piazza Giuseppe Verdi suonerà la campana per l'ultimo giro di questo 66esimo giro ciclistico del Montalbano gara nazionale per Elite Under 23 organizzato dalla Seanese e Corse dal gruppo sportivo Bacchereto con due protagonisti Raul Colombo numero 139 casacca della World Service Speedy Bike Vital Car Vega e poi con il numero 98 invece la casacca di Nicolò Garibbo della Parpri Racing Team questi due atleti che hanno un vantaggio ancora buono una 35 di secondi sui primi in seguitori quindi un'azione sicuramente interessante alle spalle si sta mettendo in evidenza Ludovico Crescioli ci dice il servizio in formazione e poi anche Palumbo il gruppo 1 e 10 quindi gruppo più numeroso 1 e 10 è avvenuto un po' di cambiamento alle spalle i due atleti di testa Raul Colombo e Nicolò Garibbo poi Crescioli Palumbo a 49 secondi e quindi a 1 e 10 il gruppo siamo al cartello di Bacchereto questa località nel comune di Carmignano nel cuore del Montalbano che ospita dal 1954 questa gara e oggi è un'edizione particolare perché ricorda in maniera particolare i due fondatori e in quell'anno il 1954 Luigi Bellini che lasciò ci lasciò 11 anni fa Luciano Lenzi che invece è mancato soltanto da poche settimane abbiamo Raul Colombo a fare l'andatura stanno immettendosi su via Mulinaccio la zona che sbocca in pratica la via che sbocca in piazza Giuseppe Verdi dove è posto il traguardo ed ecco i due atleti protagonisti ormai da una quindicina di chilometri di una fuga in tandem con Colombo suona la campana 20 chilometri alla conclusione per Colombo e Garibbo ora attendiamo per vedere anche quella che è la situazione alle spalle e infatti è confermata la notizia come sempre puntuali sia Adriano Dini che Piero Germelli questo è Ludovico Crescioli primo inseguitore è uscito il ventenni atleta della Mastro Marco Sensi Nibali che era già apparso in ottima condizione in alcune prove precedenti Ludovico Crescioli si rende autore di questo ottimo numero è uscito dal gruppo ed è il primo inseguitore a circa 25 secondi dalla coppia al comando poi arriva in questo momento vediamo un altro atleta si tratta del numero 12 vale a dire Riccardo Palumbo dell'Aran Cuscine Veius anche in questo caso confermata la notizia che avevamo dato 44 secondi il suo ritardo poi c'è un altro atleta e via via poi sta arrivando praticamente il gruppo frazionato in questo momento siamo all'uscita di Bacchereto si tratta del numero di gara 96 di Matteo Sasso della Overal Trecolli Sacring e Tim dunque abbiamo riepilogato la situazione mentre intanto con il numero 138 anche il Campano Sessa dunque al comando Colombo e Garibbo Crescioli primo inseguitore e poi abbiamo visto Palumbo quindi Sasso e poi Sessa questi primi inseguitori siamo sulla sanità di Madonna del Papa questo è il quarto ed ultimo passaggio praticamente 16 chilometri e mezzo alla conclusione Raul Colombo con 5 metri di vantaggio su questo tornante nei confronti di Garibbo ed è l'atleta della World Service in questo momento che si avvicina al Gran Premio della Montagna si alza sui pedali Colombo che ormai ha superato il tratto più duro ora gli sportivi naturalmente si trasferiranno da questa zona sul traguardo di Piazza Giuseppe Verdi mentre per il Battistrada siamo al Gran Premio della Montagna in questo momento di Madonna del Papa Raul Colombo dunque per primo al GPM si è liberato di Garibbo suo compagno di avventura per una quindicina di chilometri ed è andato ad aggiudicarsi il GPM mentre ora va ad affrontare la discesa verso Santa Cristina a Mezzana e naturalmente Carminiano poi Comeana Poggio a Caiano Poggetto Casa Rossa Seano e l'arrivo a Bacchereto dopo 154 chilometri ed eccolo Garibbo che ha perso contatto da Colombo nel tratto finale della salita di Madonna del Papa e che ora cerca di recuperare il corridore della formazione Veneta la formazione Veneta la World Service Group Vitalcar Vega dietro dietro di lui invece arriva in questo momento Ludovico Crescioli impegnato anche in questo inseguimento alla Battistrada c'è stata questa sua gran bella uscita del corridore della Mastro Marco Sensi Nibali nel tratto tra Bacchereto e Madonna del Papa ed ora Santa Cristina a Mezzana è in terza posizione con un ritardo di una ventina di secondi poi arriva questo terzetto c'è anche Pierantozzi ecco qua con il numero 59 di gara il corridore del team Futura Rosini poi Palumbo con il numero 12 poi anche Moro della Parpre Racing Team che viene invitato proprio in questo momento da Pierantozzi a fare l'andatura ma c'è da tenere presente che in seconda posizione viaggia praticamente il suo compagno di squadra Garibbo e quindi al momento non preferisce condurre mentre la situazione ulteriore ci mostra un protoncino di nove inseguitori con Sessac poi abbiamo visto anche Sessa state vedendo c'è anche Peschi con la maglia del team Malmantile alla seggio a tal proposito ricordiamo domenica prossima 26 giugno trofeo città di Malmantile riservato ad Elite Under 23 stesso percorso della recente gara per la manifestazione di domenica prossima che partirà alle 13.30 da Malmantile e intanto siamo praticamente nel centro di Poggio a Caiano mancano a questo punto circa 9 chilometri e mezzo alla conclusione una decina di chilometri alla conclusione sta transitando di fronte al comune e alla Villa Medicia Raul Colombo il quale continua a viaggiare da solo infatti Garibbo non è riuscito a rientrare con una quindicina di secondi di ritardo era transitato al Gran Premio della Montagna non è riuscito a recuperare il divario bravissimo questo Colombo si sta rendendo autore di questo tentativo quando in pratica ormai di difficoltà rimangono gli ultimi due chilometri e mezzo in salita quelli finali e intanto Ludovico Crescioli il quale è riuscito a raggiungere Garibbo ed ora sono in due alla caccia di Colombo eccolo qua il ventenni atleta di Lazzaretto di Cerreto Guidi della Mastro Marco Sensi Nibali il più giovane dei due fratelli Gesùè oggi non è presente a questa gara e poi Garibbo della Parprix Racing Team questa è la coppia che si è formata alle spalle di Raul Colombo della War Service che continua a comandare e chiede il cambio Garibbo Ludovico Crescioli si porta ad operare il proprio turno ultimi 8 chilometri per questa gara con Colombo che ha un vantaggio sempre di una quindicina di secondi e poi si è ulteriormente infoltito il gruppo che invece viaggia a 30 secondi ma attenzione tutto può succedere in questi 8 chilometri finali infatti è un gruppo piuttosto folto un gruppo di una venticinquina di concorrenti che vediamo in questo momento in quadrato con Peschi in quarta posizione e mentre sono gli atleti del team cubeca a fare l'andatura all'ingresso in poggetto mentre la media generale è attorno ai 40 orari ci dice il giudice di arrivo Federica Occhini l'arrivo su piazza Giuseppe Verdi per questo 66esimo giro del Montalbano la classica nazionale per Elite e Under 23 e intanto all'uscita di poggetto il gruppo che sta rinvenendo fortissimo recupera Garibbo e Ludovico Crescioli quindi praticamente a questo punto rimane soltanto al comando Colombo e a una quindicina di secondi 17 ci dice servizio informazione il gruppo che sta viaggiando davvero forte con il team cubeca abbiamo visto Iacchi poi abbiamo visto naturalmente anche Araia tra i più decisi nel condurre l'inseguimento mentre ormai ha già superato Casa Rossa e ora è al cartello dei 5 chilometri alla conclusione Raul Colombo ma che ha soltanto una manciata di secondi da difendere vedremo se riuscirà a farlo se il gruppo concederà ancora spazio se ci sarà una pausa bravissimo comunque merita ogni elogio Raul Colombo numero 139 della World Service Group Vitalcar Vega per questo suo generoso tentativo prima assieme a Garibbo e praticamente dalla salita di Madonna del Papa in fuga solitaria se ne è andato quando mancavano circa 17 chilometri alla conclusione di questa prova ha effettuato la discesa su Poggio a Caiano da solo e questi ultimi chilometri pianeggianti ora al cartello dei 5 chilometri che è posizionato praticamente in Seano ma tra un paio di chilometri inizieranno anche ancora difficoltà le ultime la strada inizierà a salire dalla località alle barche fino al traguardo di Bacchereto per Raul Colombo quindi si apre la possibilità ancora di potercela fare Giuseppe Romano giudice in moto segnala con naturalmente il passaggio anche della moto in formazione del cambio ruota che il gruppo sta rinvenendo decisamente ed è Pirro eccolo qua numero 71 Francesco Pirro della Maltinti Lampadari Banca Cambiano che ha lasciato il gruppo alle spalle di Colombo e cerca di riportarsi da solo sul battistrada quando siamo a 4 chilometri dalla conclusione quindi Colombo è lì davanti eccolo qua infatti soltanto una cinquantina di metri nei confronti di Pirro vedremo se il corridore guidato da Leonardo Scarselli e da Antonini nella formazione cara al presidente Renzo Maltinti riuscirà a farcela e intanto dal gruppo in seguitore è uscito questo tandem che ha la stessa casacca numero 138 per Gerardo Sessa 137 per Idam Secac i due atleti del Veloracing Palazzago guidati dall'ex professionista Paolo Tiralongo quando mancavano 4 chilometri dall'arrivo dunque l'uscita del tandem del Veloracing Palazzago uscita con molta perentorietà effettuata da questo tandem che va a recuperare ormai Francesco Pirro della Maltinti e cercherà naturalmente poi di raggiungere anche Colombo quindi una uscita importante dietro il gruppo più folto intanto Pirro viene ripreso da Secca e da Sessa due atleti che non hanno ancora vinto come Pirro in questa stagione mentre Raul Colombo si avvicina al cartello dei 3 chilometri al traguardo e anche all'inizio della salita in località Le Barche per Raul Colombo sono 10 secondi di vantaggio sul terzetto alle spalle ora vedremo se si manterrà tale il terzetto in seguitore o seppure anche il gruppo attenzione perché il tandem del Veloracing Palazzago sembra intenzionato ad insistere nella sua vehemente azione e Pirro ha perso qualche metro rispetto alla scatenata coppia formata dal marocchino Secca e da Sessa atleta campano 23 anni per Sessa 22 anni per Secca mentre Raul Colombo in questo momento viene raggiunto dunque a 3 chilometri dalla conclusione ripreso termina il sogno di poter magari arrivare da solo di Colombo e sono gli atleti del Veloracing Palazzago veramente decisi perché Sessa vedete in questo momento al comando da solo ed ora anche il suo compagno di squadra il marocchino Secca si sta riportando su di lui quindi hanno fatto l'elastico ma intanto davvero autori di un pregevole spunto dal punto di vista tecnico e tattico i due atleti del Veloracing Palazzago in questo momento vanno a guadagnare la testa della corsa ed è l'attacco che lanciano a 3 chilometri dalla conclusione Secca e Sessa dietro intanto Pirro è stato ripreso dal gruppo ora vedremo se qualcuno avrà la forza in pratica di riportarsi i tuoi due ancora Pirro e Colombo mantengono qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore ma proprio in località Le Barche stiamo seguendo questa azione davvero molto decisa da parte dei due esponenti della formazione del formazione Bergamasca formazione Lombarda guidata da Paolo Tiralongo un finale studiato a tavolino sicuramente perché i due atleti hanno lasciato il gruppo sono andati alla caccia di Pirro hanno lasciato il corridore della Maltinti hanno ripreso Colombo e poi prima Sessa e quindi è avvenuto il ricongiungimento da parte anche del suo compagno di squadra Marocchino e i due in questo momento viaggiano sulla collina verso Bacchereto verso il traguardo finale di questo giro ciclistico del Montalbano edizione numero 66 edizione particolare tutta riservata al ricordo meritatissimo di Luigi Bellini e Luciano Renzi che meritano di essere ricordati proprio per quello che hanno fatto in termini di crescita di valorizzazione di prestigio di questo giro del Montalbano in tantissimi anni perché quando diedero vita alla prima edizione eravamo nel 1954 e per rimanere in termine di curiosità ricordiamo che fu l'astrucci della Pratese 1927 il primo vincitore intanto ci siamo portati con la moto sul traguardo attendiamo la coppia di testa perché sta arrivando ed è un arrivo in parata sulla sinistra secca ma è sulla destra Gerardo Sessa che va a vincere questo lo sprint degli inseguitori terzo posto per Moro poi Filippo Malli Zambelli Sasso Peschi Petiti Pierantozzi e Colnaghi questi primi dieci dunque brillante vittoria per il campano 23enne Gerardo Sessa del vero Racing e Palazzago davanti al suo compagno di squadra il marocchino Imad Secca non c'è stata volata un arrivo in parata terza posizione per Riccardo Moro della Parpri Racing Team a 5 secondi Siamo con Gerardo Sessa l'atleta campano che ha ottenuto il successo quando mancavano tre chilometri all'arrivo questo attacco assieme al compagno di squadra Sì ho sentito ho sentito la gamba ho sentito l'ho provato uno alla volta l'ho ripresa poi c'era con me Imad siamo andati di comune a cordo e siamo arrivati da solo lo ringrazio perché era da pareccio che la cercavo ho avuto tanti problemi volevo anche mollare ma ci ho ripensato e oggi sono contento di aver vinto questa gara perché è stata una liberazione per me Una gara tra l'altro Gerardo dura impegnativa che ha portato pochi atleti all'arrivo Sì la conoscevo già questa gara infatti settimana scorsa dopo un periodo di stop sono ritornato alle gare ho sentito che lì la gamba era molto buona e infatti stesso dopo la gara ho detto a mio padre domenica vinco e oggi ho vinto C'è una dedica particolare per la prima vittoria Sì questa vittoria la voglio dedicare a tutti quelli che mi sono vicino nei momenti di difficoltà la mia famiglia mio padre e il mio amico Michele e poi voglio ringraziare tutta la squadra Paolo Tiralongo e tutti i ragazzi perché il ritiro hanno sempre dei parole incoraggianti per me e non mi hanno fatto mollare Siamo con Moro che ha ottenuto il terzo posto cosa è successo alle spalle nel momento in cui hanno preso la testa questi due atleti In quel momento lì ero un po' distratto e li ho visti andare via ma non ci ho dato peso e poi sull'arrivo ho avuto la brutta sorpresa Un terzo posto importante in una gara impegnativa come quella di Bacchereto al termine di una prova quindi più che onorevole per te Sì sì anche di squadra mi è corso molto bene abbiamo sempre controllato e sono soddisfatto dai Prossimi impegni Riccardo? Prossimi impegni domenica prossima al campione italiano prof e lì sarà un bel palcoscenico e ce la metterò tutta per far bene per mettermi in luce Grazie Bocca al lupa intanto eccoci con l'atleta del Racing Palazzago secondo sul traguardo avete dominato il finale in due Devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra e soprattutto Sessa che abbiamo fatto un bellissimo finale insieme devo ringraziare e la merita tutta la vittoria perché è tutto l'anno che si impegna più di me ha fatto tanti sacrifici la merita tantissimo Un ottimo risultato sicuramente sarà contento Paolo Tiralongo Devo ringraziare Paolo perché lui mi ha messo mi ha messo in riga e mi ha aiutato ad arrivare alla mia condizione io non ci credevo in me e lui ci ha creduto in me ho lavorato tanto e ora sono in condizione giusta Siamo con Marco Fuochi il presidente della Sianese Corse che ha organizzato questo giro del Montalbano dopo l'edizione tricolore dello scorso anno un bel successo anche quest'anno per questa gara nazionale Marco Sì diciamo credo sia andato tutto bene io ho seguito con una giuria quindi l'ho vista l'ho vissuta un po' da di dentro mi è sembrato tutto perfetto è stata una bella gara veramente perlomeno da parte mia sono contentissimo di quello che è venuto fuori del resto del resto l'impegno è stato tanto però c'è tanti tanti ragazzi tanti amici quindi va credo si impegnano tanto per questa manifestazione e credo che anche quest'anno si sia fatto una bella giornata di sport spero che chi è venuto si sia divertito e il resto l'importante era che tutto filasse per il migliore dei modi e credo sia andata bene quindi piena soddisfazione da parte nostra e poi era un'edizione particolare perché c'era questo ricordo di Luciano Lenzi oltre a quello di Luigi Bellini si diciamo un po' d'amarezza soprattutto quando c'è stata un po' la riunione tecnica anche in cui Luciano era sempre presente perché Luciano diciamo è stato è stato insieme a Bellini i promotori di questa manifestazione da 66 anni quindi la perdita di Luciano da un mese fa è ancora fresca però credo che se della su ci vede sia rimasto soddisfatto anche lui e si sia divertito come del resto credo si sia divertito tutti questi anni grazie Marco intanto Jacopo Palloni è l'assessore allo sport del comune di Carminiano che ha patrocinato questa manifestazione domenica scorsa di scena all'enduro con la prova del campionato toscano oggi una prova su strada insomma la vocazione del territorio carminianese verso il ciclismo è pienamente confermata sì noi come amministrazione non possiamo sostenere questi questi eventi che portano così tante persone sul nostro territorio e portano a farlo vedere farlo vivere noi siamo contentissimi onorati che di avere delle persone che organizzano questi eventi sul nostro territorio siamo veramente estasiati dal fatto di vedere così tante persone e che gli eventi che organizzano le persone del nostro territorio hanno un così bel ritorno e portano così tante persone veramente fantastico fantastico grazie grazie all'assessore noi concludiamo qui da Baccheretto ricordando l'ordine d'arrivo anche con l'immagine delle due miss ha vinto Gerardo Sessa la feletta campano della formazione Veloracing Palazzago seconda posizione per Secac terzo Moro quarto Magli al quinto posto Zambelli sesto Sasso settimo Peschi ottavo Petiti nono Pierantozzi e decimo Collaghi ed è tutto da Baccheretto dal Giro del Monte Albano grazie per averci seguito a tutti buon prossimo momento di serata grazie a tutti